Allora, Francesco Di Candia si è avvicinato alla community di WordPress a Sofia, è stato in giro per il mondo con queste community di WordPress. E beh sì, mi hai fatto leggere. E quindi adesso però ci farà un intervento un po' diverso rispetto agli altri, che sarà un intervento un po' simpatico su come non farsi coinvolgere troppo della community di WordPress. Io proverò ad utilizzare uno strumento un po' meno tecnologico per gli appunti rispetto a quello vostro, che è il mio block notice che porto sempre con me. Ok. Sì, perfetto. Allora, innanzitutto grazie, benvenuti. Oggi vi parlerò di qualcosa che mi è venuto in mente un po' di tempo fa, grazie a una chiacchierata che ho fatto con un amico. Che cosa è successo? Praticamente ero in spiaggia, c'era questo mio amico psicologo, e chiacchieravamo e lui era da un po' di tempo che non mi vedeva e mi dice Ah, scusate, due cose velocissime, no? Perché sono andato un po' troppo avanti. Due cose importanti. Il mio talk di oggi sarà per smontare un po' la community come l'abbiamo fatta, come l'abbiamo vissuta e come l'abbiamo creata finora. Proverò a smontarla un po'. Ed il secondo, non sforzatevi di capire il collegamento tra le foto e quello che c'è, perché io ho visto che adesso va molto di moda fare dei talk con delle foto bellissime, collegate a quello che c'è. Ho provato, sono andato su una splash, ma ho iniziato a mettere delle parole a caso e le foto sono quel risultato. Quindi non vi domandate che cosa c'entrino le foto con il contenuto della slide. Quindi questa è una cosa importante. Torniamo a quello che vi stavo dicendo prima. Ci stavamo bevendo una birra in spiaggia, io e questo mio amico psicologo, non ci vedevamo da un po' e lui mi fa ma che stai facendo? Lui è a Milano e io gli racconto del mio nuovo lavoro e che cosa stessi facendo. E inizio a parlargli della community e lui si accorge che mentre gli parlo della community mi brillano gli occhi, gli parlo di quello che ho fatto, di quello che è stato, di quello che è diventato nella mia vita. E lui da buon psicologo del sud mi pone tre domande topiche, di cui due che possono fare tipicamente solo le persone del sud, i terroni, io lo dico così. E una che potrebbe fare qualunque persona normale e comune qui nel mondo. La prima è ma perché perdi tanto tempo con questa community? Non riuscivi a capacitarsi del perché io perdessi tanto tempo con questa community? Questa è la domanda che farebbe ognuno di voi qua che non è del sud. Le altre due, ancora più importanti, addirittura ti sei licenziato, perché io avevo il posto fisso e lui dice cavolo, ti sei licenziato lui da buon meridionale, il posto fisso per lui è intoccabile. Quindi ancora di più lui ambiva a capire per quale motivo io fossi così innamorato della community e poi la terza domanda più importante, ma tua moglie non ti ha detto niente? Allora, e quindi questo è anonimo psicologo Barlettano nell'estate del 2017. La domanda, allora io ci inizio a pensare, lui dopo che parliamo mi fa, ma tu e i tuoi amici della community non avete inventato nulla di nuovo? Cioè tu sei innamorato di una cosa che in psicologia esiste già, ed è la comunità di pratica. La comunità di pratica è un gruppo sociale nel quale le persone producono conoscenza organizzata e di qualità. Quindi esistono già gruppi, esistono gruppi che fanno produzione di conoscenza organizzata e di qualità. Questo è ciò che mi stava dicendo il mio amico, dopo che io gli avevo parlato. Danno libero accesso a quella conoscenza che loro producono. Sono comunità dove c'è apprendimento continuo, non ci si ferma mai. C'è consapevolezza della propria e dell'altrui conoscenza, non c'è gerarchia. I ruoli sono assunti in base alle competenze, ai bisogni e alle disponibilità. Io ci penso un po' e in effetti, tra me e me dico è vero, produrre conoscenza organizzata e di qualità e libero accesso alla conoscenza. Noi nella nostra community ci organizziamo, ultimamente vedo che si sta spingendo per mettere in ordine con GitHub tutti i nostri contenuti, per renderla più accessibile possibile la produzione di conoscenza che facciamo. E questa è una cosa molto bella e molto importante. Quindi questa parte qua delle comunità di pratica, noi ce l'abbiamo. Oppure apprendimento continuo, per me è importantissimo. A questo WorldCamp io per la prima volta ho partecipato ieri al Contributor Day in un tavolo al quale non avevo mai partecipato. Sono andato a lavorare su Corelp, nonostante i miei limiti di programmazione e i miei limiti del sistema operativo che utilizzo, che è Windows, che non mi ha permesso di fare nulla, purtroppo. Daniele mi ha aiutato ma non ci è riuscito. Ma io mi sono sforzato di apprendere, di continuare ad apprendere, di non fermarmi a quello che sapevo fare. Se qualcuno gli viene in mente per quale motivo questa slide potrebbe andare bene con apprendimento continuo, perché questa è quella che mi piace di più come foto, ma... Poi, ovviamente una cosa molto importante è anche questa, la consapevolezza della propria e dell'altrui conoscenza, che io trasformerei in rispetto che ognuno di noi deve avere per il ruolo che ognuno, che ciascuno di noi ha nella community. Ma mentre io parlavo di questo, mentre discutevo di questo con il mio amico Michele, in me però si faceva, si stava facendo strada un'idea, ma cavolo fra, ma non è che stai diventando nella tua vita e nel tuo lavoro troppo centrato sulla community, sulla community di Wordpress, non è che ti stai immaginando, ti stai creando una cosa che alla fine dei fatti è qualcosa che ti sta prendendo troppo? Mi aveva messo un dubbio lui, innanzitutto il dubbio più importante era fra non hai fatto nulla di nuovo, non avete fatto nulla di nuovo, c'è già scritto tutto di quello che avete fatto voi. D'altronde, l'anno scorso, io avevo appena iniziato, grazie al mio essere in questa community, un lavoro nuovo, un lavoro da dipendente con un'azienda che è involved nel mondo Wordpress, quindi per me era diventata ancora molto più importante la community. Quindi questa idea si faceva strada in me. Ovviamente continuando a discutere, io mi ritrovo anche in questa cosa qua, noi non abbiamo gerarchie, in funzione di quello che c'è da fare, facciamo nei Wordcamp, ci sforziamo per esempio di non avere lo stesso lead per più di una volta consecutivamente, a seconda di quello che sappiamo fare, o a seconda del tempo che abbiamo a disposizione, noi ci mettiamo a disposizione della community. Non è che questa community, visto che ha tutte queste belle cose, stava diventando, sta diventando, pensavo nella mia testa, un po' il mondo dei sogni, un posto dove ci vogliamo tutti bene, ci diamo le pacche sulle spalle, siamo tutti bravi, simpatici e belli. Allora mi sono fermato un attimo e ho detto, forse non è proprio così, facciamo attenzione perché se capita che qualcosa ci va storto, magari ci va storto nella community, nel rapporto con qualcuno di noi e con le migliaia, anzi le millemila modalità che abbiamo di comunicare tra di noi, rischiamo seriamente di perdere di vista sia il ruolo effettivo che deve avere la community, sia il ruolo che deve avere nel nostro lavoro o nel cercare lavoro. In soldoni, quello che mi preme dirvi è, anche se gli psicologi parlano di noi, dobbiamo provare a restare comunque umili, cioè non ce la dobbiamo credere, non abbiamo inventato la ruota, siamo bravi, siamo belli, ma qualcuno prima di noi ha fatto quello che stiamo facendo noi. Finito? Grazie.